addio sacchetti in centro ultimo giorno di raccolta rifiuti porta a porta dalle cavalca ferrovia alle foglie a ponti che si concludono ponti che nascono a fauna inaugurata la nuova piscina nuotiamo petriano buona la prima da capitale della cultura per una settimana pesaro e anche capitale della scultura nuova mostra alla pescheria una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 2 febbraio che apriamo ricordando ai tanti residenti del centro storico di pesaro dell'imminente weekend di cambio nel conferimento di raccolta differenziata per l'intera zona traffico limitato pesarese domani sabato 3 febbraio termine infatti la raccolta porta a porta dopo due settimane di coesistenza con i nuovi cassonetti intelligenti da lunedì 5 febbraio in questa zona della città i rifiuti potranno essere conferiti solo tramite le 23 isole ecologiche informatizzate installate da marche multiservizi eco isole alle quali si può cedere solo tramite la carta smeraldo gli operatori di marche multiservizi hanno consegnato circa 5.000 carte raggiungendo l'ottanta per cento circa delle utenze interessate per chi dovesse ancora ritirare la carta smeraldo l'invito a recarsi allo sportello clienti di marche multiservizi in via mario del monaco ed ora parliamo dei ponti a pesaro a mezzo secolo di vita il cavalca ferrovia di sabata ed ora dopo più di sei anni di cantiere si entra nell'ultimo mese di lavoro di una delle opere pubbliche più complesse della città dopo sei anni di cantieri i lavori sul cavalca ferrovia intravedono la bandiera scacchi del completamento dell'opera si entra nell'ultimo mese di lavori dopo il completamento dello stralcio più delicato quello della sostituzione di tutte le barriere protettive dei yard rail soprattutto quelli che insistevano in prossimità dei binari ora il cantiere attuale insiste sulle rampe d'accesso mentre fine marzo si procederà anche agli ultimi ritocchi relativa di illuminazione asfaltatura e ripristino della circolazione a quattro corsie che determinerà la conclusione dell'opera il cavalca ferrovia è un intervento con cui andremo diciamo a mettere in sicurezza abbiamo messo in sicurezza queste barriere laterali andremo a riprendere giunti un intervento che con un'illuminazione nuova e un verranca asfaltato quindi un intervento che ci consentirà di riportare le quattro corsie sul cavalca ferrovia non solo il cavalca ferrovia perché quella zona complessivamente è oggetto di tanti interventi sempre entro la primavera andremo a concludere il sottopasso dei cappuccini che anche questo è assolutamente un'infrastruttura molto importante perché ci consente di riqualificare una delle aree forse la più degradata che avevamo in città e andremo a potenziare l'illuminazione prevedere l'installazione anche di videocamere di sorveglianza andare a realizzare diciamo una vera e propria rigenerazione di quel di quel punto importante della città da un ponte che completa la sua riqualificazione ad un ponte che sta avanzando la sua gestazione parliamo delle ponte ciclo pedonale sulle foglie le cantiere è stato immortalato oggi da questo video postato dall'assessore enzo belloni ricordiamo che le ponte unirà via dell'acquedotto la zona della tombaccia con un viadotto attraversabile da pedoni e biciclette affiancato all'attuale ponte ferroviario ed ora ci spostiamo nelle comune di petriano che ieri sera ha inaugurato la sua settimana da capitale nelle progetto di pesero 2024 il concerto di pianoforte questo il nome dell'evento ha introdotto il primo delle tre serate in programma vediamo ora un piccolo estratto dello speciale che ha realizzato ieri sera la nostra troupe e che andrà in onda lunedì alle ore 21 e 40 oggi siamo a petriano e stiamo seguendo il percorso di tutte le 50 capitali della cultura 2024 i 50 comuni quindi 50 per 50 al quadrato dove ogni settimana a turno ognuno darà il meglio per valorizzare le bellezze del proprio territorio ci troviamo all'esterno della chiesa di san martino dove a breve inizierà un concerto di pianoforte e anche una lettura di poesie seguitemi perché abbiamo un sacco di cose belle da mostrarvi e di personaggi da cui imparare tanto sarà un concerto di pianoforte realizzato da cesare donati con l'intervento del coro polifonico incanto di gallo e l'abbiamo fatto per valorizzare il comune di petriano il castello ci troviamo nella chiesa di san martino che è al centro del castello una chiesa medievale esiste dal dall'undicesimo secolo e quindi noi volevamo abbiamo approfittato della vetrina di pesaro 2024 capitale della cultura per far vedere che ci siamo anche noi e che il nostro comune è storico è importante quindi abbiamo deciso di fare la prima serata qui devo dire che ottima l'idea del comune di pesaro di avere lo che dare l'occasione a tutti gli altri comuni di partecipare a questa iniziativa 50 per 50 un'idea partita due anni fa un'idea vincente che ha visto l'unione la condivisione da parte di tutti in questa grande iniziativa che ci porta al centro della cultura italiana quindi questo è il primo evento poi se ne sarà un altro sabato la nostra musica partirà dal dai compositori della musica barocca quindi faremo i tre più grandi compositori della musica barocca quindi bug vivaldi ed endel e poi proseguiremo il nostro percorso con un brano in onore anche delle donne che diciamo sono rimasta a casa causa guerra e quindi è una si chiama il titolo che è una è una canzone composta da appunto da corrispondenze di queste donne che hanno come posso dire hanno scritto delle lettere ai mariti che sono al fronte quindi questo anche per insomma denunciare che comunque la guerra è un qualcosa di veramente inutile con l'auspicio che poi possa arrivare alla pace il prima possibile abbiamo scelto insomma dei brani tratti dai musical più famosi nella storia quindi dei miserabili di claude schoenberg e dal musical air spray e anche da una serie tv particolarmente celebre in italia medici masters of florence e tra questi abbiamo anche insomma inserito dei brani classici tendenzialmente scritti per organo che per l'occasione ho cercato di riadattare per pianoforte diciamo che canto un po tutto mi piace cantare tutto mi piace sperimentare se dobbiamo racchiuderlo all'interno di un genere diciamo pop però mi piace sperimentare un po tutto sono un amante di tutti i gusti musicali e quindi cerco di integrare un po di quello che che mi piace di quello che funziona ecco tra virgolette io e Cesare ci conosciamo da diversi anni ci siamo conosciuti proprio in un contesto di musical quindi siamo riusciti a capirci a intenderci molto velocemente abbiamo costruito il repertorio in maniera molto semplice ecco serata di festa ieri a fanno dove è stata inaugurata la nuova piscina della città l'impianto nuotatorio si chiama nuotiamo ed è il prodotto di un finanziamento superiore a 7 milioni di euro sostenuto dalla fondazione carifano il taglio delle nastre è stato accompagnato da un fastoso spettacolo di luce e coreografie di nuoto sincronizzato che sono state applaudite dalle tante autorità presenti dalle presidente della fondazione gragnola al sindaco seri dalle prefetto greco al deputato mirko carloni fino alle presidente della regione marche francesco acquaroli il tutto la presenza in collegamento da remoto del ministro dello sport a body la piscina entrerà in funzione e sarà aperta al pubblico dal 26 di febbraio è importante intervento di marche multiservizi che avvia verso la fase finale un percorso iniziato nel 2009 che porterà al completo rifacimento di 7 chilometri del collettore fognario da punta armelina di petriano alla frazione canarecchie di valle foglia dando così risposta alle criticità depurative della zona nei prossimi giorni partiranno i lavori realizzati da marche multiservizi per un importo di 5,6 milioni di euro 1,7 di questi milioni finanziati dalle pnrr e per il dodicesimo anno a pesaro torna la carta famiglia a supporto dei nuclei numerosi o in difficoltà le famiglie in possesso dei requisiti richiesti potranno chiedere la nuova carta usufruire di sconti in alcuni esercizi commerciali esenzione della rete dell'asilo per il quarto figlio e per i figli in affido ingresso gratuito in alcuni musei sconti sulle tariffe di abbonamento ai parcheggi sconti su prestazioni mediche specialistiche ricordiamo che la carta famiglia è disponibile gratuitamente per le famiglie numerose con un valore ise inferiore a 25 mila euro con figli minori in condizione di disagio socio economico in carico al servizio sociale professionale con un minore di 26 anni in condizione di disabilità e con un minore in affidamento o adozione ed ora parliamo di libri ma anche di investimenti come quelli che vengono sviluppati nelle volume proteggi il tuo patrimonio realizzato da marco lo giurato roberto daddario di extra gold che abbiamo avuto ospiti qua nel nostro studio per un approfondimento su questo tema roberto daddario assieme a marco lo giurato della società extra gold vigilata banca italia hanno realizzato una pubblicazione che si intitola proteggi il tuo patrimonio una visione a 360 gradi sull'oro fisico da investimento una pubblicazione da dario che vuole diciamo offrire un codice interpretativo sull'oro proprio in suoi termini di investimenti tra vantaggi rischi e quant'altro assolutamente sì daniele perché l'idea della pubblicazione è nata dal fatto che l'oro se tu ci pensi è conosciuto da tutti cioè dal bambino di tre anni fino ad arrivare poi dopo alle persone più anziane e però quando si parla di oro e tendenzialmente non viene mai contemplato come asset per gli investimenti invece è un modo diverso di poter diversificare è un modo per poter diversificare il patrimonio utilizzando uno strumento che comunque nel tempo nell'arco dei secoli ha mantenuto il suo valore da qui è nata l'idea del libro partendo proprio da come l'oro si è arrivato sulla terra quindi proprio dal da quello che è stata la sua storia come ha conservato il suo valore quali sono state le caratteristiche quali sono le caratteristiche tecniche che lo rendono un materiale unico fino a arrivare poi dopo alle implementazioni di investimento che possono essere utilizzate sia per i privati ma anche in ambito aziendale per la gestione del trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine mandato degli amministratori. Loro metallo prezioso che ha una storia millenaria ma nel 2024 perché ha diciamo una sua specificità di investimento particolare? Beh allora quello che possiamo sicuramente dire è il fatto che l'oro a differenza di tutti gli altri investimenti finanziari a cui ahimè ultimamente siamo stati abituati a vedere ha una caratteristica unica che è quella che non può fallire inoltre acquistando il materiale fisico e qui evidentemente parliamo di oro da investimento e non oro utilizzato per i gioielli che è un altro tipo di mercato e il proprietario è l'investitore al cento per cento l'investitore quindi non stiamo comprando un pezzo di carta come un'obbligazione come un titolo di stato piuttosto che un'azione ma compriamo proprio il materiale fisico. Ricordiamo per chi fosse interessato a questo tipo di argomentazioni dove può essere reperita la pubblicazione proteggi il tuo patrimonio? Allora la pubblicazione è possibile acquistarla attraverso amazon oppure per chi vuole stiamo proponendo l'opportunità di poterci incontrare e in fase d'incontro andremo ad omaggiare la persona interessata al nostro libro. Ricordiamo dove sul territorio pesarese e limitrofo si trova extra gold? Ci sono diversi uffici in particolare abbiamo un ufficio a Pesaro in via Belgioioso e per tutte le altre sedi è possibile andare sul sito leaderinvest.it per poter vedere insomma quali sono gli altri consulenti sul territorio che è possibile incontrare. Pesaro capitale della cultura ma anche della scultura va in questo senso infatti una mostra parte dell'esperienza artistica di Arnaldo Pomodoro in città fine giorni nostri e che verrà inaugurata domani al centro arti visive pescheria. È una mostra che appunto trova radici e pensiero nella storia della città in realtà è un'idea venuta a due giovani cultori di arte architettura e design che si chiamano Michele Giorgio e Carola Nava che a un certo punto abbiamo con Cornelia Mattiaccio affiancato per fare un racconto che parte da questa golden age, da questa età dell'oro dell'arte pesarese a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 e tutta una serie di mostre che uscivano dalle gallerie e dai musei per invadere lo spazio della città. Pomodoro, colla, poi burri, ceroli in modi molto diversi e abbiamo pensato di farlo da un lato raccontando la storia di quelle mostre quindi c'è una parte storica con esposti alcune opere di pomodoro reali nella pescheria che è uno spazio che amiamo teneramente e poi però abbiamo anche voluto guardare al futuro invitando dieci giovani artisti, artisti, architetti come nell'interdisciplinarità di oggi a proporre delle installazioni, delle opere ispirate o localizzate negli stessi punti in cui Pomodoro aveva collocato le sue sculture. Una serie di scatti originali di Ugo Mulas realizzati a Pesaro nel 71 durante la mostra scultura nella città, alcuni di questi scatti inediti tra l'altro perché stampati per la prima volta proprio in occasione della mostra e due sculture che ritornano a Pesaro dalla mostra del 71 che sono Rotante Massimo e Colonna intera Riccisa. Ho seguito tutti i dieci artisti per cercare di dare un'idea al personaggio e non all'artista, ho dovuto creare diciamo dieci video da un minuto che tutti creano dieci minuti in totale che davano un immaginario dell'artista per dare un'idea di come persona, di come si è posta all'opera che doveva fare al luogo che era a Pesaro. L'importante è questo tributo doppio nel senso che si parte dalla pescheria dove grazie al lavoro di Michela Giorgi, di Carlo Ranava, coordinati anche da Pippo Ciorra, permette di andare all'origine di quello che è stato lo spunto delle sculture in città, addirittura con due sculture grandi di Arnardo Monodoro, con le immagini incredibili di Mulas del periodo e anche con il racconto del lavoro di altri dieci giovani artisti che si cimenteranno con lo spazio urbano nei dieci quartieri più il municipio di Montesicardo della città. Un percorso che vivrà tutto l'anno, vivrà di un paio di aperture, inaugurazioni progressive al mese per opere ragionate con i quartieri, ragionate con i cittadini, ragionate con le comunità che in alcuni casi rimarranno anche fisse a patrimonio del quartiere, in altri casi avranno una vita diversa perché magari dematerializzate o pronte per essere collocate in altri punti sempre a decidere con i cittadini. È un percorso molto affascinante che dà il senso di una capitale che vuole basarsi sulla grande storia, in questo caso il contemporaneo che reddita da 900, ma dare possibilità agli artisti di oggi di riatualizzarne e farne un racconto in avanti. Ancora cultura ma in questo caso parliamo di cinema con un progetto che lo rende vera e propria materia scolastica per alcuni studenti pesaresi. Le bandi cinema per la scuola sono ogni anno dei bandi che escono e vedono la collaborazione del MIM, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura, per far sì che i giovani e le giovani possano incontrare il linguaggio audiovisivo, cioè che nelle scuole si usi il cinema non solo come aiuto per le varie discipline ma proprio come argomento di studio e come linguaggio da studiare, da conoscere, da approfondire da parte dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le nostre scuole. Noi dell'Istituto Agrario Cecchi abbiamo vinto uno dei bandi che è appunto i laboratori di audiovisivo a scuola, il CPA, cioè il Centro di Istruzione per Adulti della provincia di Perso Urbino ha vinto invece un altro bando sempre nell'ambito del gruppo dei bandi di cinema per la scuola che si chiama Visioni Fuori Luogo e abbiamo realizzato tante azioni. Queste azioni sono andate dalla formazione degli studenti e delle studentesse sul linguaggio audiovisivo, alla formazione degli insegnanti soprattutto di materie letterarie per l'utilizzo del linguaggio audiovisivo nelle discipline di italiano e storia soprattutto ma anche altre discipline fino alla realizzazione di un film, un documentario per quanto riguarda l'Istituto Cecchi e il progetto dell'Istituto Cecchi che è Cinebus e un film vero e proprio per quanto riguarda il CPA e gli studenti e le studentesse coinvolti. Quello che è importante dire è che noi abbiamo lavorato con tutta la rete responsabilità delle scuole di Pesaro e grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze stessi, appunto abbiamo come ci piace fare, come secondo noi è giusto fare, abbiamo coinvolto tutti gli istituti scolastici e una rete consolidata che ci vede lavorare insieme per lo sviluppo di competenze ma soprattutto per la crescita umana e culturale dei ragazzi e delle ragazze. E concludiamo con lo sport perché quella di domenica sera le pala mangono di Scafati, sarà una partita complicata per la Carpegna, il prosciutto, basket e Pesaro che ricordiamo è riduce da bene sei sconfitte consecutive in campionato. Questa mattina il coach della VL Meosacchetti ha parlato così in conferenza stampa in vigilia del mezzo. Colci sono passati già diversi giorni, ormai siamo più orientati sulla partita che verrà piuttosto che su quella che avete giocato, però come sempre si può imparare dalle sconfitte e in questa settimana tu hai detto che la squadra è sembrata allenarsi con un altro spirito. Ma sicuramente ieri abbiamo fatto due giorni un pochettino diversi, la riprova sarà sicuramente la partita quando c'è l'agonismo. Qualcosa si è visto davanti a questo, spinto su quello. Speriamo che sia di buon aspiccio di arrivare al massimo di quello che possiamo dare per le nostre caratteristiche, cosa che per dire domenica non abbiamo fatto. Il problema è che poi uno, l'allenatore o anche la gente, vuole vedere che la squadra esprime al massimo delle sue potenzialità. Poi può fare canestro, non può fare canestro, ma una squadra in questa condizione non può essere arrendevole di questo, sotto questo aspetto, per mancanza di fisico, mancanza di tecnica e tutto. Ma se abbiamo anche, se siamo anche arrendevoli di cosa, poi oltre a perdere andiamo incontro a delle brutte figurecce. Senti, meo, McDuffie è piaciuto sinceramente, in quegli sprazzi appena arrivato così però si vede che ha la classe, ha dei bei movimenti, che cosa può portare in più alla nostra squadra? Beh, sicuramente è un giocatore che per caratteristiche è un giocatore che ha questa agilità che può saltare l'uomo e onestamente è un po' l'unico che può fare questo fisicamente. Gli altri possono essere più bravi tecnicamente ma lui ha questa qualità fisica in cui anche in campo aperto può andare a saltare l'uomo e creare qualcosa così. È logico che anche lui è arrivato dopo una settimana di conoscere un pochettino i giocatori, un po' i compagni di questo. Però ci ha portato un po' di di quella atleticità che onestamente a noi ci manca. Poteva essere il tuo incontro con David Logan, domenica invece a sorpresa si è ritirato, sei rimasto stupito anche tu. Beh, sicuramente quando succede una volta che uno parte così o è successo qualcosa di grave in famiglia e non si può. Però davanti a questo lasciamolo a posto, sono molto legato a David per quello perché è un ragazzo di poche parole e di pochi sorrisi ma di grande cuore perciò mi ha fatto vincere tante partite perciò il ricordo di David è incredibile. Però per noi è un vantaggio che non ci sia. Beh, sempre meglio conto. Ne hanno tanti però voglio dire è meglio che non ci sia David. A meno che lui dice a me non voglio farti male e oggi gioco male. Però non penso che lui avesse fatto quello. Probabilmente segnava qualche canestro e poi passava davanti alla panchina e mi sorrideva. E con quest'ultima notizia di sport termina qua la nostra edizione di Rossini News. Prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione di Rossini TV per questa sera alle 21.20 lo spettacolo Don Chisciotti e Sancio Panza della compagnia teatrale Calandra. Vi ricordiamo come di consueto l'appuntamento con la nostra rassegna stampa in diretta domani mattina alle ore 7.20. Saremo in diretta anche su Facebook, sulla nostra app, sul nostro sito. Le repliche 8.20, 12.20, 14.20, 18.20. A condurre la rassegna di domattina ci sarà Antonio Astuti. E poi ci proiettiamo anche la prossima settimana perché domenica partirà la BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, dalle 4 alle 6 febbraio. Rossini TV sarà a Milano e potremo subito vedere una fascia dedicata alla Regione Marche, alla BIT di Milano 2024, da lunedì 5 febbraio a venerdì 9 febbraio. Le orari che vedete in grafica 13.10, 20.10 e 22.10. Ed è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e per averci seguito. Vi auguro un buon fine settimana e una buona serata.